Stesso, le mani sempre, stesso le lucide. Attenzione sempre a non contrarre la spalla di voi dentro. Aprire e affondare. Bene, facciamo un lato a sinistro, un tre indietro, poi prendiamo un posto. Inspira e respira. Apertura e estensione. Bene. 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 Adesso cerchiamo di vedere tutti voi. Casomai vi spediamo bene, anzi vi rifalle voi. Allora, facciamo anche in avanti. Andiamo un po' indietro. Spirale in avanti. Con una grande onda. Aprire e espandere. Aprire i terzi intorno all'asse centrale. Non piegare bene. Adesso ci sono state in avanti. E' una grande onda. E' una grande onda. E' una grande onda. E' una grande onda. bene vediamo anche il sinistro e in avanti e in avanti Grazie.